Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono BellaFaccia e bentornati! Oggi ragazzi, da come avrete letto dal titolo, faremo una challenge, sì, una challenge ragazzi. Oggi in questa challenge, oggi mi trovo qua all'interno di questa mappa, è una specie di mappa, non lo so come possiamo chiamarla, una specie di parkour guitariro, una specie di cosa del genere. In pratica io dovrò cercare di sopravvivere dentro questa specie di corridoio, dove piano piano arriveranno dei blocchi verso di me e io dovrò cercare di saltarli, schivarli, il contrario di guitariro. Quindi ragazzi, ogni volta che io morirò, dovrò mettermi una molletta in faccia. Sì ragazzi, proprio così, grazie mamma che mi hai prestato le mollette. Comunque sia, queste saranno le mollette in questione, queste qua, fanno molto, aia, fanno molto male, quindi io ogni volta che morirò dovrò mettere una molletta ragazzi, quindi, oh mio dio, cominciamo. Ok, bene, mettiamo le nostre amiche mollette qua, spero di non morire 360.000 volte. Allora, bene, cominciamo, siamo qua, ci sono, da come posso vedere, quattro scomparti. Allora, abbiamo l'esplosivo, l'elettrico, il corrosivo e l'acido, oh mio dio. Allora, io direi di cominciare dalla sinistra dall'esplosivo ragazzi, bene, cominciamo subito. Entriamo dentro questa stanza, ok, start... C'è chiuso dentro? No, aspetta, non voglio fare questa challenge! Eh, ok, start, start. Get ready, players, bella faccia, via! Ok, mi ero scordato di dirvi che, ecco, vedete? Io non mi sto muovendo, ci si sta spostando. Noi non dobbiamo finire, ah, nell'inseneritore, non riesco nemmeno più a parlare. Ecco, vedete, stanno arrivando i primi blocchi. Questo tipo, cos'è? Il blocco del nether, non mi ricordo il nome adesso. Oddio, comunque sia io rischio di morire. Andiamo, quindi, aio. Quindi, alcuni blocchi daranno radiazioni, altri blocchi esploderanno e altri non lo so. Quindi, oh mio dio, mi hanno avvelenato. Oh, lì ci sono dei gambali! Oh mio dio, dei gambali! Fammi prendere i gambali! Ok, abbiamo i gambali. Non so, esplosivo, cos'è che ha? Qua? Questo cos'è? Una zampa di coniglio! Zampa di coniglio, ok, velocità 2, va bene. Ogni, ok, perfetto, ogni oggetto ci dà un bonus. Ok, la zampa di coniglio ci fa saltare! Mio dio, non voglio morire, non voglio. Oh, zampa di coniglio! Nostra, grazie! Saltiamo! Perfetto, salta ancora! Perfetto, dammi, dammi... Oh mio dio, stavo per cascare fuori, ragazzi! Oh mio dio, fammi andare di qua! Ma, quindi, oh, ho preso la dinamite e la TNT che si è fatto saltare in aria. Perfetto, quello è il posto maledetto dove non devo andare. Io direi di fare così. Oh mio dio, non devo andare lì. Uh, qui! Cos'è questa cosa? Allora, perfetto, score. Se arriviamo a 100, già sono bravo. Oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio, oh mio dio! No, me la faccio, salta! Salta quest'altro blocco! Oh mio dio, degli stivali, degli stivali, degli stivali! Non li ho presi! No! Uh! Uh! No, no, sopravvi! Non andare di sotto, ti prego! Ti prego, no! Sappiamo tutti cosa vuole dire questa cosa. Vediamo dove la possiamo mettere, la prima molletta, magari qua. No, qui fa veramente, oh mio dio, la mettiamo qua. Magari la mettiamo, la mettiamo qui. Ok, la mettiamo, oh mio dio, fa malissimo qui. La mettiamo qui, perfetto, prima molletta. Me ne pentirò amaramente di aver fatto questa challenge. Vai, esplosivi, un'altra volta. Via! Yeah, che allegria. Oh, che male. Vai, faccio fatica anche a parlare. Allora, mamma mia, cosa si fa per YouTube? Quindi, dai, forza, venite, venite avanti. Non ho paura di niente, io. C'ho solamente una molletta un po' fastidiosa. Una piuma di uccello! Cosa è successo? Cosa? Oh! Ah! Quella piuma che ho preso, la mia piuma, perché io sono un pollo, mi fa cascare meno velocemente. Perfetto, forza. Non ho paura, è tutto qui quello che sapete fare. Oh, mi sto annoiando, mi sto annoiando. Quando arrivano i blocchi seri, oh mio Dio, ce ne sono un sacco. Oh, che salto da pro! Oh mio Dio! No, 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 no! Non vuoi arrivare di certo! No! Quest'altra, dove la mettiamo? Magari la mettiamo qua. Ebbiamoci, evviva la vita. Ah, inizia... Oh, ma fa male la verde! Ma cosa c'è la verde? Ok, bene, rifacciamo. Start! Aia, queste mollette fanno proprio male, mamma. Sono molto potenti. Mamma, hai preso delle tenaglie, non delle mollette. Allora, io devo pensare al parkour e non devo pensare a queste mollette che mi stanno divorando la pelle, proprio. Forza, è tutto qui, è tutto qui. Allora, magari se muoio un'altra volta cambiamo minigioco. Guardate che belli, che belli questi blocchi strani. Ma se io quindi finisco lì, me ne vado, forse... Cos'è una pozione? Una pozione! Perfetto! No, dai, ragazzi, io comunque il parkour... Cioè, questo è un parkour, io non so farlo. Quindi facciamo... No, 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 no! Fammi andare di qua, fammi andare di qua, fammi andare qui, 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 qui. Tranquillissimo, bravo, non ti ho fatto proprio niente. Cos'è? Avvelenamento, che cos'è? Mamma mia, queste mollette fanno un male atroce. Io per questo video voglio almeno 3.000 like per tutto il male che mi sto subendo in questo momento. Vai, saltiamo. Oh, il pane! Cosa fa il pane? Dammi il pane. Big hell, yeah! Allora, continui... Questa la mettiamo qua. Perfetto. Mamma mia. E io devo anche uscire dopo. Allora, no, non facciamo l'esplosivo. Non riesco neanche più a parlare, ma facciamo l'elettrico! Yeah! Vai con l'elettrico. Mmm, questo elettrico cosa farà di speciale? Allora, i blocchi... Ok, i blocchi sono uguali. Quindi? Blocchi uguali? Eh, che saltore! Vi ho sorpassato. Quella è una TNT verde. È una TNT verdognola. Oh, oh! No, 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 no. Fammi andare di qua. Perfetto. Ok, così! Ma io non l'ho toccato quel coso! Non l'ho toccato! Ah, perfetto. Ok, la mia faccia sta diventando un tritassassi. Proviamo l'esplosivo. Dai, proviamo l'esplosivo. Vai con l'esplosivo! Aio. Aio, questa fa male. Ok, saltiamo! Perfetto, questa è una pozione. Jump boost, yeah! Saltiamo di più. Vai, così, forza! Saltiamo anche qua? Ok. Mamma mia, solo un pazzo farebbe. Questa c'è... Ok, magari qui in mezzo alla fronte ci sta. Fammi prendere. Fammi prendere. No, non ci sta. Ok, qui ci potrebbe stare. Non so più dove metterle. Allora, qua facciamo il corrosivo. Vai, non riesco più a parlare. Aiutatemi! Chiamate uno psichiatra. Sono pazzo. Salto qua. Io con queste mollette non vedo più niente, comunque. Aio! Questa fa male. Aio! No! No! Cioè, ma io... Io non riesco a vedere niente. Vai! Perfetto! Così! Sono proprio bellissimo. Allora, andiamo su acido. Mamma mia, mamma. Se stai vedendo questo video, non lo guardare. Forza! Sono tutti uguali queste cose. Cosa c'è scritto? Su toxic potion. Ok, va benissimo. Così. Schiviamo questo. Adesso è di cattiveria. Andiamo qua. Andiamo anche qua. Oh mio Dio. Qua cosa sta succedendo? Vai, vai. Continuiamo. Continuiamo così. Qui salto. Dai, fammi andare di là e non rompere le scatoline. Non rompere le scatoline. Oh mio Dio. Guardate come sono. Sono anche nel... Di colore blu. Oh mio Dio. Vai a ritornare. Vai a ritornare. No! Aia. Questa fa male. Ah! Aia. Questa fa malissimo qui. Allora, quindi. Adesso. Cosa facciamo? Corrosivo. Vai, corrosivo. Peccato che non posso metterli nelle orecchie perché ho le cuffie. Ragazzi, sono bello. Nuovo YouTuber. Mister Molletta. Allora, se non muoio adesso con tutte queste mollette sarò immortale per sempre. Ok. Saltiamo, saltiamo. Ma io posso saltare qua dentro? Fammi saltare qua. Oh mio Dio. Ho vinto. No, 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 no. Ok, non posso. Questa. Mettiamo qua. Ok. Va bene. Perfetto. Adesso. Cosa dobbiamo fare? Io non so nemmeno come sto parlando. Magari sono orribile da sentire. Allora, facciamo di nuovo esplosivo. Io non lo so. Boh, non riesco nemmeno ad arrivare a 100. Allora, se arrivo a 100 smetto. Eh, ve lo prometto. Arrivo a... Oh mio Dio. No, 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 no. Non hai capito un bel niente. Non hai capito. Allora, mi devo consentire a non sentire il dolore di queste mollette. Spero proprio che non entri nessuno in casa mia in questo momento. Dai, pozione. Ok, perfetto. Dai, score 24, 25. Dobbiamo arrivare a 100. Dobbiamo arrivare a 100. Ce la faremo? Io penso proprio di no. Forza, salta! Salta, salta! Eh, sì, che è impossibile. Ma io non l'ho toccato. Non l'ho toccato! Mettiamo qua così. Ok, perfetto. Chissà. Non mi riesco a vedere, ma non ci tengo a vedermi in questo momento. Non sono proprio curioso per niente. Allora, qua la bocca ce l'ho libera. Ma ho ancora una faccia, ragazzi, o...? Dai, 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 no! No, 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 no! Allora, qui, le mollette stanno finendo. Qua posso mettermela? Ci sta qua? Ci sta qua o no? Qua? No. Qui? No, non ci sta. Qua sotto! Ok, perfetto. Allora, continuiamo. Acid! Vai! Vai così, acid! Io non riesco più a muovere la faccia. Ho ancora una faccia, ragazzi. Oh, mio Dio! È passato... È passato un mio vicino fuori dalla finestra e mi ha guardato malissimo. E sappiamo anche il perché. Ok, continuiamo, andiamo avanti. Allora, ho gli stivali. Gli stivali che se salto mi fanno... Non mi fanno cascare. Non so nemmeno più quello che sto dicendo. Forse il sangue non sta più arrivando al cervello. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 50... Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! No, no! Fammi arrivare, fammi arrivare. Oh, mio Dio! Ma stai molto velocissimo! Ma cos'è? Ma sei alzato? Oh, mio Dio! No, no, no! Devo resistere, devo resistere. 88! 88, 88! No, no! Esiste 91! 91, 93! Resisti! Bella faccina! 98! 100! Sì! 100! 100, 100! Sì, sì, sì! Vai, bella faccia, continua così. Una mela, una mela al giorno, toglie il medico di torno, grazie. Allora, quindi, però non toglie le mollette. Quindi saltiamo, continuiamo a saltare come conigli nella prateria, felici. 116, mamma mia che score! È uno score incredibile, bella faccia! Stai saltando, stai saltando proprio benissimo! Salti bene, salti bene, salti bene, salti bene! Salta, esci qui, è tutto, tutto verde era, come facevo? Questa? Questa è diversa! Magari qua ci sta? No! Ok, materialmente non c'è proprio più posto qui per le mollette. Quindi la mettiamo qua? Ok! La mettiamo qua l'ultima! Ok, perfetto! Ciao! Ultima, ultima partita perché non ne posso più! Io, cioè, sono l'uomo molletto, mi devono dare il Guinness dei primati per le mollette. Allora, frio che il mio labbro se ne vada per sempre. Cosa ho scelto? Non mi ricordo, l'elettrico. Quindi andiamo qua, facciamo un saltore. Io non riesco più a parlare, non riesco più a respirare proprio. Non vedo nemmeno, ma dov'è che sono? Allora, saltiamo qua, qui, qua, qui. Non vedo niente, non vedo niente, non vedo! No, fammi andare di qua, no! Basta, basta, ultima, qua. Ah! Ok, ragazzi! Io siccome non riesco più a parlare, spero che riusciate a sentirmi. Evite a lasciare un bel pollice in su se volete altri video così. Sei un pazzo, sei. Quindi io vi aspetto nel prossimo video. Non mancate! Tanti like e ciao! Sono un monstro! Mamma mia! Guardate, qual è sta? Wow! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.